cosa che cos'è ragazzi aiuto aiuto ragazzi aiuto cosa succede mamma sono in trappola dovete trovare la chiave e aprire la porta cosa ragazzi aiutatemi dobbiamo aprire le serrature la palla deve scendere per prendere la chiave dobbiamo arrivare alla chiave forza oh sì vai avanti grande sì sì ultimo yes trovata la chiave sì ragazzi dove siete aiuto l'ora del bucato dovete mettere il colore nella lavatrice giusta e trovare la chiave rosa giallo colore rosso blu forte crisce l'abbiamo fatta sì sì aiuto ragazzi andiamo la palla deve andare nel buco per prendere la chiave ciao pronti attenti via palline dovete mandare le palline in buco per prendere le palline in buco per prendere la chiave forza via via oh sì ehi oh 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 ai dovete separare il cibo sano da quello non sano per prendere la chiave forza hot dog non sano banana sana pizza anguria burger non sano peperone sano sandwich non sano broccoli sano mela pomodoro fragola mamma ragazzi aiutiamo noi ragazzi aiutiamo noi sono fuori dai aiutatemi ragazzi siete fortissimi ragazzi grazie di avermi aiutata ottimo lavoro di squadra sì è importante aiutarsi a vicenda ma aspetta un secondo ok oh aspetta mi hai chiamato mi hai chiamato un secondo a mamma mamma aiuto oh mm mamma dai ti piccolo dalle da mangiare ok uh iami cosa è successo nikki questo per te grazie mamma di nulla mamma o meno aspetta un secondo Nicky torno subito cos'è successo Chris? si è rotto il ponte si lo aggiusto io uno e due oh wow e funziona mamma aiutami Vlad? aspetta un secondo per favore ti richiamo io aiutami ok oh mamma aiutami per favore certo fantastico grazie mammina oh di nulla tesoro mio mamma gioca con me mammina certo oh hai vinto tu scusa mamma 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 scusa Nicky devo andare ok è ora di dormire per favore ora della nanna ok tutto ok mamma ok aspetta un secondo mamma 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 Cosa succede, Chris? Cosa stai facendo? Chris, cosa stai facendo? Papà, ammi cura di te!